Vosca Accademia Culinarna, insomma che ora non si può fare colorata paprika e tunti cromare, faremo vitravne tarta. Certo francese, da foremca e poi svidelze, faremo tacc 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 giure, e da piecarnica, 150 stopni o dopo 8 minuti. Smasciamo bocciacchi e nostra colorata paprika. Da misce, ricotta, pietrusca, parmigiano reggiano sul pietro, mesciamo e poi aggiungiamo i nostri certo francese e i nostri creme serove. E in cima mettiamo grandi tunti cromare, come solo cromare ha così grandi cromare, e poi i nostri bocciacchi e nostra paprika colorata. E formiamo belle, colorata tarta. Trochę olive in oliva e da piecarnica. 10 minuti, sempre 180 stopni. E la nostra tarta è preparata. Fantastica, super delicata, super colorata. Molto facile da fare, effetto come sempre è wow! A presto, ciao!